Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono il re della reddita Cancelletto1, farò la recensione di un film del 1987, opera Betti, una cantante esordiente, deve prendere il posto di una più celebre e anziana collega alla vigilia della prima del Marchebet, di Giuseppe Verdi, che si dice poi, che si dice porti sfortuna a chi la interpreta, la ragazza accetta ma ha dei brutti presentimenti, il mio voto a questo film è 10, ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto, mi sono piaciute molto le scene del film, l'interpretazione e la sceneggiatura, è di genere dell'orrore, la durata è 1 ora e 47 minuti, il regista è Dario Argento, la regia è buona, bravo regista, la data di uscita in Italia il 19 dicembre 1987, budget 8 milioni di dollari, l'attrice è Daria Nicolodi, brava attrice, nel film anche William McLamara, Urbano Barberini, Corallina Cataldi, Tassoni, Cristina Maris-Lac, Jan Charlton, Carola Stagnaro, Michele Soavi, Antonella Vitale, Bjorn Hammer, Cristina Giacchino, Barbara Coppisti, Antonino Iorio, Sebastiano Somma, Elisabeth Norberg-Schultz, Francesca Cassola, Carl Zinni, Josef Abram, saluto tutti i miei fan, MamiSanta92, guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, arrivederci al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto.